ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo esercizio insieme sono noemi santiloni trader e coach in commodity spread e opzioni e mentor del programma coach di alfa for all oggi andremo a fare insieme un esercizio interattivo operativo sulle opzioni quindi se l'operatività in opzioni vi sta piacendo non potete perdervi assolutamente questi video anche perché vorrò assolutamente sapere come ve la state camando con questi esercizi e in particolare l'esercizio di oggi se siete riusciti a portarvi a casa un bel guadagno quindi partiamo subito con qualche cenno teorico per andare a vedere come si compone questa operatività quindi partiamo con alcuni cenni che riguardano la costruzione di un vertical spread in vendita che rappresenta una delle più semplici strategie che andiamo a costruire in opzioni e all'interno del nostro trading club operativo partiamo con un paio di concetti intanto il margine e il premio il margine rappresenta quella caparra che il la piattaforma ci richiede per mettere in campo un'operazione il margine sarà poi utilizzato perché come per calcolare il ritorno sull'investimento e rapporto rischio rendimento lo stop loss lo considereremo in questi esercizi calcolato tre volte il premio il premio quello che incassiamo e lo stop loss quello per stoppare ovviamente la perdita per non andare a prendere il massimo rischio che in altri in altri casi il massimo rischio di solito corrisponde al margine non in tutti i casi ma in molti si andiamo a vedere quali sono i principali vertical spread che andremo ad affrontare in questi esercizi sono due vertical spread in vendita il bull put e il break call il bull put è quello costruito con le put in breve gli strike delle opzioni che andiamo a scegliere si trovano al di sotto della quotazione del titolo in questo momento quando il titolo si avvicina agli strike il prezzo della combinazione in opzioni si alza quando quando si avvicina quindi il prezzo aumenta siccome sono in vendita sto perdendo al contrario quando il titolo si allontana dagli strike il prezzo della combinazione si abbassa e siccome sono in vendita sto pagando esattamente il contrario funziona con le call il bare call è il vertical spread in vendita lo costruiamo con due opzioni al di sopra del valore di quotazione del titolo di quel momento quando mi avvicino agli strike il prezzo della combinazione si alza e quindi sto perdendo al contrario quando il titolo storna quindi sta sta scendendo mi allontano dagli strike il prezzo della combinazione si abbassa sto guadagnando ricordiamo che vedremo alcuni livelli fissi da scegliere per questi esercizi ma sono delle soglie esclusivamente per fare questi esercizi interattivi insieme nella nel trading reale questo non ci saranno dei livelli precisi ma il prezzo della combinazione che andremo ad acquistare o vendere a seconda dell'operazione che deciderete di fare potrete sceglierlo con precisione voi secondo i vostri parametri andiamo a vedere qual è l'operazione che andiamo a suggerire oggi per un esercizio insieme sottostante euro in questo caso parliamo di un future sulle valute esercizio numero 4 per le opzioni proposta di un bear call 1.1925 e 1.19 è un bear call quindi ci troviamo con un 5 per cento di distanza dal prezzo attuale ci troviamo sui massimi non esattamente sopra ma sui massimi e abbiamo un rsi di circa 50 quindi siamo nella media l'rsi in questo momento non ci sta dando aiuto né in un lato né nell'altro quindi neutro il margine per questa operazione 500 dollari i prezzi proposti sono 0.3 soglia a mercato 0.5 soglia silver e 1 soglia gold cosa vuol dire mercato il prezzo che ci offre il mercato in questo momento quindi mkt sta per mercato vuol dire che in questo momento la combinazione bear call 1.1925 e 1.19 paga 0,3 ovvero 30 dollari il la soglia silver la soglia gold sono dei valori più alti dei valori più alti che potenzialmente potremmo andare a prendere con questa combinazione nel momento in cui come un bear call il titolo si alza un po quindi si avvicina lo strike la combinazione prende un po di valore e noi riusciamo ad entrare un prezzo più alto rispetto a quello che in questo momento ci sta offrendo noi siamo una situazione come vediamo dal grafico di un titolo che sta lateralizzando e che quindi sta oscillando in una fascia di prezzo si sta mantenendo in questa quotazione quindi secondo voi quale potrebbe essere un buon prezzo per poter entrare in questa operazione soglia che ci propone il mercato quindi 0,3 o qualcosina di un po più alto vi do qualche secondo per pensarci così segnatevi la fascia di prezzo che potenzialmente andreste ad inserire un'operazione di questo tipo e andiamo a vedere come va questa operazione ricordo a tutti che chi ha scelto la soglia market è al mercato chi entra ad mkt vuol dire che l'operazione ce l'ha in macchina come vedete in questo momento tra l'altro è stato toccato anche il prezzo di 0,58 nella barra di sotto vediamo come si sposta il titolo in relazione anche al tempo quindi abbiamo l'ingresso per la soglia market che non è andata in stop perché andrà in stop solamente con un prezzo di 0,9 ma speriamo di no e la soglia silver a 0,5 quindi entrata per un soffio ma ci siamo chi è entrato silvia si è avvantaggiato sicuramente con un premio decisamente più alto di quello della soglia market al momento abbiamo il decadimento temporale e questa lateralità che sta facendo sì che che l'operazione non non salga di prezzo ma che si mantenga sempre più o meno in in questo range vedete che anche nel momento in cui il prezzo è andato un po più su quindi si è avvicinato di strike in realtà il decadimento temporale ha giocato a favore di chi ha venduto questa operazione e quindi ha fatto sì che entrambe le soglie rimanessero insomma in in un profitto senza andare in in loss a prendere la stop loss per la studio gold purtroppo non è stata toccata proprio per il fatto che il titolo è rimasto molto laterale e quindi un'operazione ottima in realtà per chi vende perché lo scopo di chi vende è proprio quello cioè o di prendere la non direzionalità di prendere la non direzionalità quindi o la lateralità del titolo o che vada nell'operazione opposta rispetto ai nostri strike quindi che si allontani questa operazione è stata molto molto tranquilla in questo caso vedremo insieme alla dottoressa silvia pallavicini la profilazione del rischio per questa operazione quindi vedremo come i profili limitless potevano essere più o meno adatti per affrontare le determinate soglie di prezzo per questa operazione noi ci vedremo sicuramente in tanti altri video operativi di questo tipo mi raccomando lasciateci un commento e fateci sapere come andata questa operazione iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale